Ciao amici, unboxiamo velocemente due prodotti fondamentali per una postazione da gaming e chi dice il contrario non è più il nostro amico. Il primo accessorio sono le Kraken X-Lite della Razer, comprate come usato ottime condizioni su Amazon Warehouse. Potete notare il bollino sulla scatola originale. Solite ditate sopra ma funzionano come le nuove. Incluse di garanzia, prolunga jack, output e input e codice per utilizzare il software che permette la ricezione dell'audio su round 7.1. Ottimo per captare precisamente i passi e gli spari nemici negli fps. Le ho scelte appositamente per questo. Audio fedele, studiato per il gaming e microfono che permette semplicemente di comunicare con team e avversari. Non aspettatevi chissà che. Pagate 25,34 euro anziché 44, direi stonks. Secondo accessorio fondamentale e qui molti avranno da ridire ma è così, il microfono. Nello specifico ho un microfono da podcast, quindi con suoni in output non molto forti, equilibrati e pagati. Ho scelto ancora un usato ottime condizioni Amazon Warehouse, con un prezzo bomba di 27,92 euro anziché 55. Attualmente non è più disponibile. Liam & Dan, tecnologia tedesca fornita di scatola originale. Spinotto particolare, quello di qualità. Asta con ragno e entrambi di ottima fattura. Filtri antipop, quello tondo da appoggiare e la spugnetta invece che va indossata al microfono in sé. Io in particolare utilizzo quest'ultimo perché è più pratico e maneggevole per il mio utilizzo. Entrambi li ritengo acquisti validi, ma soprattutto il microfono è in assoluto il miglior acquisto della mia postazione. Fidatevi, funziona da dio. Pur non avendo un software dedicato, lo utilizzo in live con un filtro compressione e rumori su OBS, oppure registrando con il medesimo effetto su Audacity. Lo state ascoltando proprio ora. Amici, con questo unboxing e recensione veloce è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video, se non terminano i money. Ciao amici!